In questi anni in cui io ho comandato ha portato anche l'origo agli alloni della Corea Nazionale, ahimè anche per situazioni un po' particolari, soprattutto familiari, ma che comunque ci ha portato anche all'immediata risoluzione degli eventi. E se mi permettete anche una parentesi, grazie anche a voi, nel senso che ho potuto constatare davvero in questa realtà l'estrema vostra correttezza nell'informazione. Ahimè, le mie esperienze mi hanno portato a avere molte volte delle difficoltà proprio nel gestire molte volte una necessità di informazione, però a volte necessità anche di aspetti, se vogliamo, di carattere investigativo, che in quel momento avevano necessità di essere sottaciuti e devo dire che quando c'è stata un'attività di accordo con tutti voi, siamo sempre stati in là di poter affrontare la situazione in maniera corretta e poter a noi consentirci portare avanti e poi dare il giusto risalto a quella che è stata l'attività e anche informazioni nei confronti dei cittadini.